Prima di iniziare vorrei parlarvi del mio make up di oggi che ho realizzato grazie ai trucchi Alexius Cosmetics Vi lascerò il link giù in infobox e il codice sconto Anastasia5 che potrete inserire prima di acquistare I trucchi vengono spediti con tantissima cura e hanno delle boccettine veramente stupende Ho acquistato due palette veramente bellissime che ancora voglio testare tutte Ma i brillantini sono qualcosa di stupendo Vi consiglio vivamente di guardare il sito e magari di acquistare qualcosina Per non parlare di questi lip gloss tenerissimi Questo qua ha forma di succhino all'ananas Lampadina Uno smoothie alla fragola Ed infine un cupcake Mamma mia quanto ci mette Ciao Ciao scarafaccino vivente No dai non offenderti sto scherzando ok Non offenderti Lo dico con amore lo sai Come stai tesoro Fatti dare un bacio Com'è andata la tua giornata Ma dai Interessante Sono contenta Che va tutto bene Allora Dimmi un po' Cosa facciamo oggi Oddio Quanta roba Sì Perfetto Ok fammi dare una controllatina Prima che ti dico subito Ok Ma Ascolta un attimo Avevi seguito il mio consiglio dell'altra volta? Sì Sai che non si direbbe No cioè nel senso I capelli sono belli però Io ho qualche discomazione Ancora la vedo Secondo me Bisogna che ti compri un shampoo Ancora più Linitivo Esatto Probabilmente hai una cute Estremamente sensibile Esatto sì Guarda qua Sì sì L'hai vista anche tu vero? Brutta Mamma mia Brutta Brutta No no Dico la situazione Tesoro Mica tu Tranquilla Tu sei carinissima Come sempre Vuoi una ciclis? No? Ah va bene Allora Facciamo una cosa Iniziamo Dalla spazzola Te li pettino un pochino Ok? Perché Ti vedo un pochino Annodati Te li sei pettinata Stamattina? Sì No no ma perché Sarà il vento un po' fuori Esatto Se ti faccio male Tu Dimelo ok? Davvero? Vi siete rimessi insieme? Oh scusa tesoro No ma Te l'ho detto eh Hai dei nuoti? Sopporta un pochino? Per essere belle Bisogna soffrire No? Ascolta Dicevi Ma dai Quanto sono contenta Ma te Pensa che roba Incredibile Ma No è che Non l'avrei mai detto Che Insomma Ti saresti fidanzata Con qualcuno No ma No no ma mica Mica perché Però sai Hai una bellezza Particolare E beh Attrai per questo Dai Sono contenta Andate in vacanza Dove? Oh sì Ma Ti dirò Ci sono stata Niente di che No Non ci ritornerei più Sai Ma Magari a te piace Sai Ognuno Ha i suoi standard Sai C'è chi ce li ha Qua E c'è chi ce li ha Sotto No ma mica parlo di te Parlo così in generale Che sai Ognuno Ha i suoi standard Mamma mia Sono lunghi Sti capelli Li vogliamo tagliare Due centimetri Saranno 10 centimetri Non Due No tesoro Niente Parlavo tra me e me Sai Dopo una giornata di lavoro Con tutti i clienti Sai quanto sono matti Mamma mia Lavorare A contatto con le persone Forse È una delle peggiori Professioni Poi mi tocca sentire Tutte le Pazzie Sai Questo Quell'altro Un po' come con te Anche poi Ascolta Dimmi una cosa Io li vedo un po' secchi Sti capelli Vogliamo Fare anche un trattamento Idratante No Adesso Te lo faccio scontato Ok Facciamo Dai Ti faccio 85 euro Sì Solo di trattamento Certo Ovviamente Solo trattamento Poi c'è anche da parte Taglio A piega Eh no Ti solo piega Non riesco proprio a fartela Sai Facciamo solo trattamento E il taglio Che dici Ti metto un olio idratante Ok dai Un prezzo Un prezzo Per te Sai Sennò Costa di più Sì Lo pettine Ma Perché Che problemi ha È pulito Vabbè Vabbè dai Sei arrivata qui Per ultima Tesorino Cosa ti aspetti Cosa saranno mai Un po' di capelli Tra l'altro guarda Questi sono tuoi Eh Li attacco Così Sembrano di più Guarda Eccoli Dai scherzo Sono tuoi Tranquilla È sterilizzata La sterilizzo Dopo ogni cliente Allora Sti capelli Un po' così Qua va tagliato tanto Scarafaccino mio Perché Sono secchi Il secco Va tagliato Va tagliato Ti facciamo Un trattamento Sulla cute Anti Desquamazione Ok Anche qua Ce n'è Ti piace Il trucco Guarda un po' Hai visto Ho messo Brillantini Sapevo che Venivi tu oggi Guarda quanto Invece Come ti sei Truccata Ma Molto bello Bello Ah sì Ma dai Nuova palette Addirittura Pensavo Che era cinese No beh Perché Scusa I cinesi Fanno prodotti Di altissima qualità Ascoltami Tesorino Passiamo Direttamente Al Taglio Ok Che io Non voglio andare a casa No no Dicevo che Insomma Ci tengo A fare Il trattamento Certo Ti bagno Un po' I capelli Un po' Un po' Di acqua Qua Profumata Idrata Per te Allora Te la spruzzo Un po' Ok Ti andate nell'occhio Ti brucia Fa vedere Oh mamma Eh sì Un po' irritato Ascolta Fai una cosa Mettiti La manina Sull'occhio Tienlo chiuso Bisogna Sopportare un po' Per essere belle Lo sai Allora Facciamo una cosa Sì Qui sarebbe Da tagliare Un po' Tutta la lunghezza Però Visto Che Io devo andare a casa Tesoro Lo sai È tardi Ti taglio Un po' I ciuffetti Davanti E ci Facciamo andare Bene Questa cosa Ok No Tesoro Non si vede Non si vede Sono un po' Nodantini Un po' secchi Un po' Qualche dubbia punta La vedo Ma sai Non è nulla Che non si potrebbe Riparare Con un po' Un po' Di maschera Quale usi tu? Quella lì Insomma Tesoro Costa un po' Un pochino Per 3 euro Non ti aspettare Miracoli Però Ognuno Insomma Si basa Un po' Voglio dire Sul budget Che ha Io per esempio Spendo un minimo 50 euro Sulle mie maschere Infatti Si vede No I miei capelli Sì Oggi Li ho legati Ma Insomma Lo sai Che sono stupendi Tesoro Andiamo di ciuffetti Ok Le punte Sì sì Ma stai tranquilla Stai serena Stai serena Stai il telefono mica ti farei questi scherzetti antipatici, ma scherzi io poi zacco, 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 zacco c'è anche ci sono guardi avendo anche un mezzo ciuffettino quasi zacco, zacco, zacco non guardare il risultato dopo zacco, zacco, zacco zacco, zacco sicura che non vuoi la ciclis? non ci vincano com'è che dici? ok dai va bene guarda che le ho qui per te sai vabbè è un po' sciolta perché è stata al caldo tutt'oggi però è buona per te va bene aspetta un po' mi brude qua mamma mia non vedo l'ora di struccarmi tutto il giorno qua a lavorare zacco, 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 zacco candle resses mamma mia sono troppi questi cappelli bisogna svol вдругva zack, zacco, zack, zacco, zacco, zacc basta così sono stanca ah si cara non te l'ho messo hai ragione infatti sei piena di capelli qua lavoli mi spiace dai ascolta sbattiti un po' con le manine ti metto il mantellino adesso sbattiti un po' dai così magari non ti sporco con la maschera ok allora che quella se ti sporco dopo non va più via allora alza sti capellacci qua mamma mia non se ne può più allora ok lo alzo un po' va bene così spero di non sporcarti con la maschera ok amore allora prendo un po' di maschera che ho qua no no ci basterà credimi guarda che guarda che c'è un po' di rimasuglio non ti preoccupare poi guarda che questa 85 euro non sono mica pochi non posso mica spendere troppo ti piace il mio top eh lo sto sai com'è devo sempre essere bella qua abbiamo dei clienti molto molto belli lo sai quindi devo fare la mia straccia di tutti i giorni con qualche bell'uomo ma la tieni un attimino guarda te lo do qua le buoni ok grazie gentilissima tesoro scusami ma ti sollevo un po' la giochettina qua mamma mia guarda che nodi uffi dai a fine giornata dammela un po' ok te lo applico un po' va bene così dai per questo lato siamo a posto tranquilla tesoro questa perché se tu la metti in un punto lei dopo comunque si sparge te la massaggio un po' si sparge dopo ecco come dire vado a girare un po' ovunque si si anche anche dietro te la metto guarda uno strato ma solo qua dietro un pochino un po' sulle punte che è rimasto un po' di prodotto ok no no tutto bene cosa è che dici no ma no è tutto bene sai sai io e lui siamo un po' tutti e due un po' matti è un continuo lasciarsi è un continuo sentirsi poi no insomma sai com'è ormai da un po' di tempo che è così no ma no ma non ti preoccupare va tutto bene si davvero ti ha detto così lei che stronza no ma l'aspettavo no ma non ascoltarla perché lei ti faccio il massaggio intanto ok perché lei è proprio è proprio fatta così le piace parlare male delle persone di me soprattutto ma tu sai cos'è che la spinge vero bravissima l'invidia perché esatto perché io sono più bella più di successo esatto ho una carriera e lei cosa ha niente e quindi l'unica cosa che le rimane da fare è sparrarmi dietro tua prossima volta dichilo che io so tutto ok ti piace? si anche a me piace sai quando mi fanno il massaggio molto molto rilassante ti dà fastidio la ciclis? ascolta lì c'è il pitone me lo butti tieni guarda è di là grazie tesoro grazie e smettila perché dovrebbe farti schifo l'ho solo un po' masticata sai che sono tutta sterile io mica con te no no niente niente non ho detto niente io direi che tesorino guarda la maschera si è tutta assorbita no questa non va rimossa questa va tenuta uno o due giorni senza lavaggio ok? non lavarti i capelli quando è stata l'ultima volta che li hai lavati? due mesi fa? e no perché vederli un po' sai non si direbbe che li hai lavati ieri ecco no ma tesorino scarafaccino mio scherzo sai che io dico tutto con amore che io ti adoro ti amo oh santo ti amo allora utilizzo questo massacciatore con il quale ti massaggerò un po' ok? e ti vado anche un po' a pettinare i capelli che li stracchiamo sti nodi tesorino dolce se ti tiro mi dispiace però qua la situazione è grave hai visto le mie nuove unghie oh scusa ti sono andata nell'occhio non volevo tesoro scusa oggi torni a casa che sei cieca eh sì e senza soldi nel portafoglio esatto eh sai com'è per farsi belle oltre alle sofferenze bisogna anche spendere eh lo so amore mio lo so tesorino lo so scarafaccino però sai è così è così perché il servizio costa soprattutto il mio il mio tempo costa io non ho tempo da perdere poi già ti ho fatto anche un bello sconticino sono quella la venivi a pagare attorno ai 100 euro da un altro parrucchiere sai da me invece quanto ti avevo detto 85 90 insomma vediamo dopo in casa allora beh insomma non tutto districato però va bene ti ricordo la maschera bravissima tesoro dopo domani lavateli sì perché questa va ad agire a lungo termine capito bravissima questa perché è una maschera idratante la cheratina tu sai cosa fa la cheratina vero ai capelli se non lo sai te lo spiego va praticamente a renderli più forti perché i capelli sono fatti di una grandissima percentuale di cheratina anche le unghie tesoro sì infatti per questo che che tu hai i capelli così fini che vedi cioè basta pettinarteli un attimo guarda cosa mi fai le spazzole lo vedi perché non hai la cheratina purtroppo e le unghie sono delle foglie perché non hai la cheratina proprio nel corpo quindi almeno per quello che riusciamo te la mettiamo in maniera chimica nel corpo te la iniettiamo esatto allora beh direi che va bene così ok no ma non si vede neanche che ce l'hai la maschera sai perché è tutta assorbita e vedi io te li tocco e neanche mi accorgo che hai il prodotto sulla sulla radice molto molto belli tesoro mio io non posso asciugarteli prima perché sì devo chiudere assolutamente il salone che stasera devo uscire fuori e sei un'amica mi capirai secondo punto no secondo punto no terzo punto fuori fa caldo si asciugano da soli vento ma smettila ma smettila che con il vento poi ti viene anche un bel mosso così smorziamo un po' questo questo liscio così alla Mona Lisa tesoro io ti metto un olio ho questo qui della Moroccan Oil no aspetta tesoro un secondo ti metto questo qua guarda è meglio no non è finito c'è ancora no perché quello della Moroccan Oil non è buono quanto questo in realtà quanto no tesorino è che veramente questo è meglio perché quello a parte che veramente costa troppo sai io cioè insomma se è un'amica ecco voglio dire quindi quello ce lo teniamo per le clienti un po' più ricche come dire no vabbè lascia stare questo è meglio senti un profumino vero senti qua eh sì buono però applico un po' così su sulle punte soprattutto ma anche sulle lunghezze perché qua ragazzi ho applicato un po' un po' ovunque sai no ma mica perché allora mamma mia senza la ciclis non mi sento me stessa c'è niente da masticare la saliva poi è troppo naiosa da masticare tesoro che dici tutto bene tutto bene dai bene tesorino facciamo 90 di trattamento a 50 prezzo base di taglio siamo già a 140 e dai facciamo 140 dai 135 va bene perché sono gentile oggi ok guarda mi stavo già dimenticando di toglierti la mantellina oh scusami mi sono andati un po' di capelli in faccia scusa tesoro non volevo mica sai non era mia intenzione niente tesoro 135 euro ok ti aspetto in cassa grazie per essere venuta da me prossima volta facciamo che vieni esatto al mattino così ho un po' più energie ti faccio anche un lavoro magari un po' più strutturato ok tesorino mio scarafaggino ciao alla prossima ti aspetto in cassa ti aspetto in tanti